ok ragazzi in teoria ci dovrei essere di nuovo allora andiamo in cqc vediamo un po' lista delle stanze in teoria da qualche parte qua ci dovrebbe stare una persona che voi conoscete benissimo perchè adora warrock solo che non riesco a capire dove cacchierola sta e come posso trovare questa persona ragazzi parlo di ro lunatica se ci sta in teoria vediamo se c'è signori c'è ro lunatica e giustamente voi dovete sapere ro lunatica si diverte molto su sto gioco eccola qua la salutiamo ciao ro lu buonasera ciao belli ok ok ah ci stava seguendo sfido ufficialmente e ro lunatica in 1 vs 1 signori si parte allora vi faccio vedere questo giochino è molto leggero quindi magari se non vi gira valorant oppure se volete provare qualcosa di alternativo è un gioco vecchio però è stato aggiornato un sacco di volte non è brutto ok c'ha pure qua c'ha le classi potete scegliere l'ingegnere il medico lo sniper per l'assault livi trooper io uso il medico perchè c'ho tutta robetta molto utile adesso dovreste vedere a tutto schermo normale tranquillo e sereno quindi iniziamo subito la nostra partitozza ok adesso siamo 1 vs 1 ragazzi ora c'ho un piccolo problema tecnico che praticamente sto usando i cacchio di comandi di valorant che sono diversi da questi ed è un problema tutto ciò ok dovete sapere che la nostra moderatrice pazza è pure abbastanza brava a sto gioco quindi bisogna stare attenti perchè altrimenti ci prendiamo dei coccoloni assurdi prendiamo tutte le mie armi mamma mia qua c'ho le scorpion d'oro signori c'ho quest'altro pure che è d'oro questo è normale questo è un'altra arma d'oro e con questa mi curo signori allora queste sono quelle più potenti che ho non sono il massimo a distanza per c'è si da lontano non sono il massimo ma a distanza ravvicinata queste ti massacrano raga quindi attenzione abbiamo pure la scivolata mistica voi lo sapete che io dopo un po' di partite che faccio qui praticamente per giocare a valorant devo rimpararmi un'altra volta tutti i tasti che valorant non ce l'ha la corsa la scivolata non c'è un cacchio di sta roba ed è un casino ok ora fatemi concentrare perchè raga l'ho vista attenzione attenzione qua puoi anche muovere la testa così vedi destra sinistra ok queste pistole sono potenti ma non sono molto precise quindi dalla distanza userò c'è una testa c'è una testa c'è una zossa ok attenzione ok cerchiamo di fare qualcosa di decente ragazzi che su valorant siamo andati bene nonostante la squadra stava morendo malissimo cerchiamo di fare bella figura pure qua come non detto signori porco nation mode qua tra un po' arriva pure da per me il porco nation mode ve preoccupate ok stavo usando i comandi di valorant porca zozza per passare da valorant a un altro gioco in due secondi è un po' rognoso ok per il momento la signorina sta vincendo 2 a 0 purtroppo per me ovviamente la vedo la vedo l'ho vista l'ho vista sta laggiù sta laggiù sta laggiù ok non facciamola scappare quasi può correre su sto gioco dove cacchia l'ho la sta da dove cacchia porca zozza l'ho è rotto le palle te lo dico curati 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 veloce scappa porca miseria quasi quasi torno su valorant così tanto per la vedo brutta sta partita dove cavallo sta andiamoci a nascondere dai via con calma e qua dobbiamo giocare in modo molto più strategico perché la situazione si fa molto complicata scusatemi sto cercando ogni tanto di buttare un occhio ma capite benissimo che qua distrarsi è la fine qua si muore se ti distrai adesso lei potrebbe stare da tutte le palle e infatti e infatti dove sta sta qua su sicuro mio dio il terrore muo fa il giro ne sono quasi convinto quella ve lo dico io si è buttata giù eccola là eccola là e muorici una volta ok morta 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 signori morta attenzione che sento dei passi tantissimo porca zozza porca zozza attenzione che faccio la fuga porca zozza ecco morto male signori ok ora però mi devo concentrare assolutamente con calma raga anche qua la situazione si fa brutta ve lo dico ok attenzione attenzione zitto gatto potrei aver visto una capuzetta porca la miseria c'è morici ok 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 ce l'abbiamo fatta aspetta uno l'abbiamo ghillata va bene ho sentito dei colpi sentito qualcuno che caricava una pistola no ci provare incredibilmente signori incredibilmente stiamo pareggiando stiamo pareggiando molto incredibilmente ragazzi noi devo scappare intanto mi sto curando tantissimo ok carichiamo pure le armi dove stiamo questa questa è carica questa è carica questo è tutto carico perfetto dove starà secondo voi raga sento dei passi stiti stiamo qua vicino lo so mi devo buttar giù per forza dove stai dove sei maledetta dove sei no ci provate facciamo un po' di casino così si intimidisce la ragazza sta arrivando sta arrivando porca zozzeria incredibile ci sono anche io scarico addosso altra arma c'è raga 57 armi qua servono dove stiamo non la vedo più ok cambiamo zona e ricarichiamo pure intanto qualcuno di voi la vede vai che pur se la vedete mica non la potete di porca miseria potete provare a fare una capata attenzione vai che ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare oh sali scemo ok la vedo 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 non la vedo più Ok Da dove si affaccerà L'ho vista Stavolta delle carri E vabbè che cosa c'hai come arma E basta Ok siamo un attimo messi nell'angolo Ma non è un problema signori Non vi preoccupate Ce la possiamo ancora fare Sto messo malissimo Sto messo malissimo Malissimissimo Ok Eh raga l'uso sto gioco è abbastanza skillato Porca zozzeria Ok meno male che c'ho il medico Ma per fortuna mi posso Mi posso curare raga Ok ho finito le cure ragazzi Quindi adesso non posso più Mamma mia non posso più curarmi Purtroppo Raga ce l'abbiamo Siamo passati in vantaggio Miracolosamente Non so manco io come Non volevo cascare Porca zozza Vai corri 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 nasconditi Allora in questo gioco Avete anche la stamina Per correre Solo che quando si consuma la stamina Che è la stessa Che vi fa Fa pure i doppi salti Cioè le scivolate Le capriole Una volta consumata La stessa Dicevo Una volta consumata la stamina Non potrei più correre Sì mi hai seccato malissimo Lo so Lo so vabbè Ok Sono stavolta però So ordinato So ordinato C'ho di nuovo Tutte le mie cure Oh le scorpio Fanno un male cane Raga Dove stai Rolù Vieni fuori Rolù Non ti nascondere Che poi mi becco Gli infarti Rolù Dove sei Ma che cacchia Rola mi sta sparando Che non la vedo manco Ma che cacchio sei Un pantalma Basta Ok Stiamo passati Drammaticamente In svantaggio Dove si sarà andata A nascondere Quell'altra Lassù Le scorpio Andano lontano Fanno schifo Questa può spuntare Da tutte le parti Di là Di là O peggio ancora Di là Dove spunterà Zitti O ci sono due punti Dove può spuntare Dove cacchio sta Porca miseria Eh L'ho detto io Ok Ok Di qua non la vedo Di qua non la vedo E di qua Non la vedo Ok Ma non c'è Sariamo qua Fa il saltino Fa il saltino Che confido la stamina Porca zozza No Ok vuoi dire Perché spari così Per smidirla E curarmi raga Sento dei passi Raga ve lo giuro Cioè vi cagate sotto Ho gioco a sto coso Quando qualcuno è schillato Perché senti solo i passi Che si avvicinano E non sai dove cacchierola sta Attenzione 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 Raga sta qua da qualche parte Ma quella sbuga da qualche punto Io lo so Raga qua Ci becchiamo Ci becchiamo il jumpscare Secondo me è un altro po' Lo dico io Dove sei? Niente Eh Ma da dove cazzarola Mi spari Che non ti vedo Ma che sei Un fantasma L'ho vista L'ho vista L'ho vista Sta lassù Sta lassù Quella maledetta Ah maledetta Morirei malissimo E corri per favore Non ti bloccare Quello tu Ok Stava lì su Potrebbe essere scesa Andata di qua Ho sceso Andata di là Oh ce l'ho di fronte Ce l'ho di fronte E' sparita un'altra volta E' un fantasma Raga E' un fantasma Questa ragazza E' un fantasma Ok Mo' sono nascosto benissimo Signore Attenzione Stava qua Qua non c'è Qua non c'è Perché me non spunta più Roluninja Eh Roluninja Si E non spunta più Ma Da dove cazzo Non la sta sparando Oh mio dio Ragazzi io non so Da dove cazzo Vai via Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ok Ok Non perdiamoci d'animo Signori Non perdiamoci d'animo Possiamo ancora recuperare Ma porca zozzi Che mi sbatto vicino ai pali Ok Con calma Con molta calma No No Da dove Da dove Da dove La vedo Sta laggiù Guarda come sta lontano Che voi Non l'avete manco vista Secondo me Curiamoci un attimo Sono qua Sono qua Teniamola d'occhio Teniamola d'occhio È già sparita Ma dove cazzarola Stiamo Stava là Qua urge No Dove cacchio è andata Stava là Porca la zozzeria Oh raga Eccola Eccola Ce la dobbiamo fa per forza Ok Sto un po' perdendo Signori Attenzione Sto un po' perdendo Quanto sto perdendo 6 a 10 Va bene Senta Signorina Lei ha rotto Abbondantemente le palle Dov'è per favore Si faccia ammazzare Gentilmente Non devo stare Allo scoperto Allo scoperto È pericolosissima La situazione Ho visto qualcuno Con lo dell'occhio No Ho iniziato ad avere Le allucinazioni Raga È sparita È sparita Un'altra volta Eppure raga Questa mappa L'avete vista Non è una mappa grande Eppure è tutta aperta Quindi in teoria Dove cazzarola sei Dove Dove sei Allora Metto un attimino qua Con calma Ho visto qualcosa Che Mamma mia Cioè avete visto Quella cosa velocissima Che è passata Nel mezzo alla strada Cioè so solo Che qualcosa È ruzzolato Da questa parte Signori Secco Malissimo L'esistenza Adesso Mi ho lasciato Mi ho lasciato Questo Eh ho perso È scaduto il tempo Ma porca zozza Dai Comunque Gigi Gigi Ci sta Ci sta Dai Scriviamogli A Rolù Nella chat Della stanza Gigi Sei Una Belva Porco Giuda Con te Non ci gioco Più Che palle Eh Oh signori Così si fa Vedi Eh Quella se la ride Can Chiar Sì